Ha fatto rumore l'esclusione di Cosmo Tedeschi dalla lista dei candidati che sostenevano Michela Fanelli per la segreteria regionale del PD, Tedeschi ex vice segretario regionale dell'Italia dei Valori, questo sembra il motivo per cui è stato escluso Tedeschi? Ma ci sono state delle grosse imprecisazioni, in effetti io mi sono allontanato dall'IDV già da tanti mesi, da quanto abbiamo proposto il ricorso al Tarre al Presidente della Repubblica. Da 7-8 mesi seguo il gruppo Renzi, questo è risaputo, infatti abbiamo partecipato anche ai congressi comunali e provinciali, sempre con il gruppo Renzi e con la Fanelli, quindi ad oggi io dico non mi interessa più di tanto la querelle che c'è sulla mia posizione di candidato o meno, non cambia proprio nulla, io comunque farò parte della lista della Fanelli, farò parte della squadra della Fanelli, quindi non abbiamo nessuna difficoltà, la politica si può fare senza alcuna difficoltà, non è che devi far parte per forza dell'Assemblea, puoi entrare in segreteria, insomma ci sono tante possibilità. Ma quello che interessa di più alla gente, ecco, non è la polemica se uno entra nella lista oppure sta al di fuori della lista, quello che interessa anche a me sono le problematiche del lavoro che si devono affrontare, vedi ITR che si stanno perdendo 500 posti di lavoro, vedi Solagrit al 700 posti di lavoro, allora io inviterei più che altro queste persone che si sono accanite contro questa posizione a impegnarsi più per il lavoro, a impegnarsi affinché queste persone possano continuare a lavorare e il polo tessile ITR possa essere di nuovo una realtà per la provincia di Senna e per la regione Molise perché ha dimostrato negli anni passati di fatturare 700 milioni d'euro. Allora questo interessa a me, lavoro per queste aziende e questo farò all'interno del PD perché poi vi assicuro sono stato chiamato sia da una parte che da un'altra, invitato sempre a partecipare nel PD, quindi va a finire che se stavo con l'altra squadra andava tutto bene, però bisogna accettare anche il cambiamento.